musica 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 ok ragazzi in questa mappa non l'abbiamo mai fatta noi quindi ci buttiamo giuuu a bombazzo io sono già pronto per il tuffo bomba vai 2 1 ok corri 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 muoviti 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 vieni di qua che avevo visto una cesta prima ok ok occhio d'aquila che devo chiamare eh ho è blu occhio d'aquila merda qua dentro c'è la lava corre fill frecce me la do diamante altro lingotto di ferro sono eh il lingotto di ferro mi servirebbe c'erano 2 di lingotti di ferro ottimo ottimo frecce frecce cibo lingotto di ferro arco me la dono me la doro gg acciarino no un altro me la doro no questo qua lo vinciamo semmai no non devo parlare aspetta 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 un altro diamante ok perfetto quindi aspetta aspetta levo tutta la mia merda si si un attimo hai finito a controllare si tutto controllato ti serve un po' di armatura no no sono full sono full volevo lanciare un po' più no tu mi volevi allora aspetta ti servono due lingotti di ferro se mi dai qualcosa per farmi una spada overpowers tieni quel diamante me la fa anzi no aspetta di direttamente la mia spada io mi faccio un diamante ma hai capito il maiale eh eh io li ho trovati due diamanti ah grazie grazie ti ho lasciato tutta la cosa di ferro ma io me la ricrafto una di ferro ah no me la dita intera senza danni eh si non l'ho mai usato quando avevo dovuto mi arriva qualcuno e ciara si come ci devi eeeh ce l'hai uno di selce non mi hai dato i diamanti si ce la sta qua tieni tieni grazie che mi faccio un altro acciarino pronto? 4 io già ho mangiato si pure io sei pronto dove sta? eccolo mira con l'arco eccolo e fu ferro pure lui ma tanto dove oh ce la dobbiamo fare per forza aia cazzo sono caduto muoviti a salire eccomi mi ha lasciato da solo eh eccomi eccomi dove sono? sali ah e scendi tu da la no? certo andiamo dove cazzo sta quello? andiamo 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 cazzo ce la spada in diamante pure lui? eh appunto andiamo merda merda picchialo sta arrivando aspetta fermo allora aspetta fammi riprendere un po' di vita si eh sono caduto in acqua aspettami muo facciamo il deathmatch nostro vai si ti do la spada in diamante tieni ah si grazie un attimo mi suoto l'inventario eh vedi che dopo inizia ad arrivare i fulmini eh si ho capito vabbè smuotiamoci l'inventario veloce dai no le frecce ok che appunto viale questo si teniamo a spade di pietra a volontà proprio ok sei pronto? un attimo un attimo no ah cazzo no ho riempito una cesta intera con la merda di quello là un attimo devo finire recuperare la vita eh non abbiamo più tempo dobbiamo iniziare eh no mi mancano tre cuori eh manco un minuto e 45 eh ho voglia di appicchiarsi dai va po' per me possiamo cominciare vai 3,2,1 via aia ma che ha fatto il bastardo oooh arco power aia 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 no in acqua aia 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 siiii e vai siiii e vince un altro anger game siiii 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 mamma mia dark blue la bestia sei una merda e vai ragazzi sono riuscito a vincere un altro anger game comunque pensavo di aver vinto cazzo comunque complimenti anche a te se la sei camata bene come sempre ragazzi vi ricordo di mettere mi piace scrivere e commentare e ci vediamo in un prossimo video ci amo a tutti grazie